Benvenuti sui canali di Lenti Car Automobili per tutti. Fiat Panda Van, due posti, 1.200, attenzione, benzina GPL contro la demagogia dei sindaci e degli amministratori comunali. Immatricolata nel 2010, ha percorso 77.000 km ed è in ottime condizioni. Guardate i sedili. Servo sterzo, aria condizionata e telefono Bluetooth. Il chilometraggio è certificato e garantito. Il piano di carico è completamente libero in quanto la bombola è alloggiata nel vano della ruota di scorta. Allora, se volete entrare nei centri storici in Barabai di Vieti Comunali, alzate il telefono, chiamateci immediatamente e venite a visionare e provare questa splendida vettura. Ciao! Ciao!